Seracusa, la Polizia di Stato denuncia un uomo. Agente delle volanti hanno denunciato un seracusano di 37 anni per avere violato le prescrizioni relative al divinito di avvicinamento nei confronti della ex moglie. Il pomeriggio di ieri, nell'ambito del progetto Trinacri, agente del commissariato di Lentini, insieme a personale della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio e hanno identificato 23 persone, controllato 10 veicoli, elevato due sanzioni amministrative e sequestrato un mezzo. Durante l'esplodimento del servizio, gli agenti hanno controllato 14 soggetti sottoposti al regime degli arresti domiciliari. Nelle giornate natalizie del 25 e 26 dicembre, agente del commissariato di Noto, nell'ambito del progetto Trinacria, hanno effettuato dei servizi di controllo del territorio, in particolare nel centro storico, nell'area periferica e costiera del Lido di Noto e nell'area collinare. Nell'ambito dei servizi sono state identificate 50 persone, controllati 40 veicoli, elevate 17 sanzioni amministrative e sequestrati due mezzi. Inoltre sono stati controllati 20 soggetti sottoposti ad obbligo e sono state effettuate 12 perquisizioni.